Il numero 2 del 2015 di Notizie Magazine della Regione Piemonte ospita l'editoriale di Alessandro Perissinotto, scrittore turinese e docente universitario. Apertura sulle camere di commercio, poi spazi e fondi strutturali europei e ha un ambito fortemente innovativo, la meccatronica. Sul piano sociale la rivista presenta l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali e dedica un ampio servizio al mondo carcerario. Le pagine centrali sono dedicate alla visita di Papa Francesco a Torino. Approfondimenti culturali, gastronomici e sportivi con ampi servizi tra i formaggi piemontesi e il golf, sport un tempo d'elite e oggi invece sempre più diffuso. Infine si alza il sipario sui teatri di provincia, realtà che da secoli porta la cultura anche nei centri minori.